Nel suo recente video, Federica Pellegrini ha condiviso un intimo racconto sulla sua esperienza di diventare madre della piccola Matilde. Attraverso immagini dolci e sincerità disarmante, ha aperto le porte del suo cuore agli spettatori, mostrando un lato della maternità spesso non raccontato. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Ha parlato dei giorni frenetici che hanno seguito la nascita di Matilde, della gioia travolgente del primo incontro e delle sfide incontrate lungo il cammino, compreso il cesareo e l'equilibrio difficile da trovare tra le esigenze della neonata e il bisogno di spazio personale. Con candore, Federica ha toccato anche argomenti sensibili come la condivisione delle immagini sui social, esprimendo le sue esitazioni in un mondo ancora incerto per la sicurezza della sua bambina. Ha affrontato il tema dell'allattamento, sottolineando la fortuna di avere una Matilde così collaborativa, pur riconoscendo le difficoltà di essere sempre disponibile. In questo viaggio verso la maternità, Federica Pellegrini si è rivelata un'icona di empatia e forza, trasmettendo un messaggio di autenticità e solidarietà. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.